Domenica 27 ottobre e grande calcio di Serie C torna protagonista su Rete 8 con un appuntamento imperdibile. Dallo stadio Porta Elisa di Lucca segue in diretta in chiaro il match tra Lucchese e Pescara, una sfida che promette emozioni e spettacolo. Dalle 18.30 non perderti l'ampio prepartita in diretta da Lucca con analisi, interviste e approfondimenti. E dalle 19.30 in diretta in chiaro la gara. A seguire il post partita e le reazioni a caldo dei protagonisti. Tutto in diretta su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Lucchese e Pescara, vivi la passione del calcio, i grandi eventi sportivi solo su Rete 8. Lucchese e Pescara